1,2,3,4,5,6,3 Eccoli E ragazzi L'ho scaricato appena adesso ragazzi E Cazzo devo fare Vediamo che cosa faccio Giaconese Gioca Ok ragazzi Siamo costati già a livello 2 Stiamo alla prova Nivelo 3 ragazzi Grande errore al tutelenza Ha suscitato l'interesse di alcune Suciuta con quale Andrà in prova Pader Boa Pader Boa Pader Boorn Palermo o Cagliari Bo Palermo 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 No palo Por que va un amico mi è arrivato me l'ha consigliato ha detto di portare questo lui lui l'amico mi è che mi ha consigliato era Martino no 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 aspetta no G Giuseppe io mi chiamo ragazzi ragazzi scusate se lo vedete un po' bloccato che si blocca l'è lo 5 per noi 3 stelle ok ragazzi ha avuto ottimissimi ragazzi vuol dire ragazzi stiamo diventando sono già forti no angolo alto ragazzi qua c'è ancora di balla nel palermo qui eh 3 stelle ragazzi vai almeno posso passare già di livello a livello 40 contro il sassuolo 2 a 0 sto perdendo mannaggia addio è adentro è adentro ragazzi qua se mia con una punizione ragazzi meglio di niente ecco un'opportunità è empoli palermo è empoli 1 a 0 noi ragazzi 1 a 1 perché perchè 1 a 0 angolo alto 9 2 i gli esetto martini non non Catania Mamma mia quanto è potente quel portiere Ragazzi mio dio E porca è la priglia Sta cazzo di palla Si vedi la ragazzi io mi cazzo Impossibile Porca la miseria Mi ammette Mi calcio La mia vita Cento volte meglio della figa Cazzo c'è qua La parpa Maessia signore Lo facciamo come zapigno No Lasciamolo così Che Posso mettere E Guardate Ragazzi questa è la più bella Oppure questa è qui rosa Perché Sto nel Palermo io ragazzi No io la verità Tipo Milan Dolare nella prima squadra Dolare nella prima squadra Il Bologna Il Bologna era La squadra che 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 Nooo Porca Eva l'allenatore non pretende più ragazzi spero che vi sia piaciuto ho lasciato un like commentate iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci becchiamo al prossimo video bella ragazzi